credo che questa terza edizione del salone del mobile a shanghai sia un successo anche perché rispetto alle precedenti la varietà del pubblico è straordinaria credo che sia un successo anche perché presente oggi con una varietà di aziende imprese ma anche con un progetto come quello che il salone sta condividendo con la triennale di aprire il prossimo aprile il museo del design permanente alla triennale di milano semplicemente questo è una grande anche novità anche per il pubblico cinese abbiamo già avuto in queste ore delle reazioni molto importanti molto interessanti di condivisione di accordi per poter far girare le straordinarie come dire collezioni permanenti del design italiano quindi sono felice è un momento bellissimo per il design italiano e grazie al salone del mobile l'italia conferma di essere un'eccellenza internazionale